Vistavche in questo momento? Siamo riusciti a realizzare veramente una mostra splendida. A seconda è che questa mostra è dedicata a un critico d'arte, alla persona che aveva fatto molto, aveva lavorato per fare famosi i grandi maestri che adesso sono molto noti e celebri in tutto il mondo. E' una mostra molto intelligente. Sì, è fatta tutta di capolavori, ma è anche una mostra molto intelligente. Certo, tutto è replicabile, tutto può essere ripetuto. E abbiamo anche noi dei progetti di portare questa mostra nelle altre città russe e europee. Secondo è che, ovviamente, organizziamo vistavche difficili, sono domande di documenti, grani, tamorini e tutto il resto. Ma questo è così che deve essere, perché noi lavoriamo con le più grandi cose. Quando parliamo delle difficoltà, si tratta dei documenti, dei confini, della dogana, ma così deve essere, perché noi abbiamo da fare con i veri capolavori. Certo. 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 Poi ci sono anche delle piccole difficoltà, causate da quel fatto che adesso si vive troppo bene. Per esempio, i camionisti non possono portare i quadri il sabato e la domenica, perché è vietato. Poi, per esempio, i camionisti non possono fare al giorno più di un certo tot delle ore, e quindi la strada diventa molto lunga. No, noi non abbiamo avuto capire queste difficoltà, ma abbiamo avuto. Così abbiamo imparato a tenere conto di tutte queste difficoltà e di superarle. Abbiamo appena. So, no siamo. Saputo qui Cominciamo. Ricordiamo. E cose nove. Qual l'acverse che sono, ancora è qui questa». Sì. Grazie a tutti.